Nel corso della notte a Medellin in Colombia è stato catturato Luigi Belvedere, ricercato da dicembre del 2020 ed inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell'Interno, condannato in via definitiva per traffico internazionale di stupefacenti e che avrebbe agito come intermediario tra i cartelli colombiani e alcuni clan del cartello camorristico dei Casalesi. Deve espiare la pena di 18 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione, nonché un'ulteriore misura cautelare sempre per traffico internazionale di stupefacenti. L'inchiesta coordinata dalla procura distrettuale di Napoli e condotta dalla squadra mobile della questura di Caserta, dalla Cisco di Napoli e dallo SCO, avvalendosi di una diretta collaborazione con organismi investigativi colombiani e del sostegno operativo di Europol, ha consentito di documentare l'operatività di Belvedere, broker carcer Tano specializzato nell'illecita importazione di cocaina che agiva come intermediario tra i cartelli colombiani e alcuni clan del cartello camorristico dei Casalesi. Di lui gli investigatori hanno anche una foto che lo riprende in visita alla tomba del noto narcotrafficante Pablo Escobar.